Cominciamo da una frase che ho letto nelle note di regia che mi ha molto colpito. Ogni mia scelta è frutto proprio di una messa in discussione del mio lavoro e della mia idea di cinema. Sì, nel senso che secondo me il cinema è un'arte incredibile, nel senso non riesco io a non dire questa frase banale perché è veramente un modo di raccontare che richiama fortissima la natura dell'individuo e la natura dello spettatore. Tu puoi vedere cento film, far vedere cento film a cento persone diverse e avrai mille opinioni differenti. Lo stesso film ha un impatto di un tipo e di un altro su ogni spettatore. Non c'è un film uguale a un altro perché è l'unica arte che veramente parla alla nostra interiorità da cui proprio l'esistenza della critica, nel senso che il critico in fondo è un individuo che come mille altri si relaziona a un testo terzo e lo rielabora secondo se stesso perché chiaramente quel testo ci parla e si mette in comunicazione con noi. Questa cosa per me da regista vale allo stesso modo, nel senso che io non ho mai un approccio univoco alla materia che cerco di raccontare, cerco di costruire, ma sempre molto critico. Cerco sempre di farmi domande sulle mie scelte, cerco sempre di chiedermi chi sono nel momento in cui faccio una scelta che poi in un film così complesso anche diventa determinante e va in questo senso in tutte le direzioni, cioè la scelta della lingua, l'uso del costume, l'uso della recitazione, il cast, l'impianto scenografico che si dà, sono tutte cose che risuonano fortissime in questo testo, è un flusso che ci parla continuamente e che ci interroga molto sul chi siamo, anche chi siamo in quel momento della nostra vita. Tu rivedi un film oggi, non ha su di te lo stesso impatto che aveva dieci anni fa o avrà fra dieci anni. Il film non è cambiato, siamo noi che cambiamo e io come autore faccio lo stesso percorso. Mentre guardavo il film riflettevo sul fatto che gli americani hanno fatto tantissimi film ambientati durante l'antichità, hanno sfruttato i miti e in tanti film americani c'è questa cosa odiosa, non so, del colpo a rallentatore, la goccia di sangue, il sudore, l'espressione della guancia così che riceve il colpo e tutto questo non c'è, quindi il realismo era fondamentale, importantissimo, era questo proprio l'imperativo categorico. Sì, sì, per me era assolutamente centrale creare per lo spettatore uno spettacolo realistico e vero, cioè qualcosa per cui noi prendiamo questo individuo che ha il piacere di sedersi nella poltrona del cinema, nella sala buia e la dobbiamo teletrasportare da un'altra parte, lo spostiamo in questo caso nell'ottavo secolo avanti Cristo in un mondo che deve essere completamente vero, devono essere vere le cose che vediamo, la lingua, anche proprio gli schemi di comunicazione fra le persone, ci deve essere qualcosa che ci sorprende e che ci interroga. Per fare questo bisogna fare una serie di scelte che secondo me non possono essere ridondanti, devono essere asciutte, devono essere vere. Una ferita fa paura perché taglia, se io mi taglio il braccio nell'ottavo secolo avanti Cristo, non ho ospedali da nessuna parte, questo è un problema e questo problema si deve sentire sui personaggi. Tutto deve essere il più possibile raccontato con una verità molto asciutta, molto cruda, ci sono dei combattimenti col coltello che sono tremendi, perché sono quello che sarebbero stati realmente tanti anni fa. Ma tu eri consapevole di fare una cosa nuova, anche rischiosa, perché chissà, no? Magari quando eri lì, chissà come viene. Sì, sì, devo dire, mi approccio io a tutta questa materia in maniera molto, non dico ingenua o inconscia, ma in maniera molto sincera. Cioè, ho scritto questa storia con i sceneggiatori, l'ho progettata, l'ho pensata, e poi mi sono lanciato dentro questa realizzazione facendo anche delle scelte di grande forza, forza, insicure, diciamo, come dire, sì, rischiose, come dici tu, cioè folli anche un po', no? Non solo la lingua, ma anche proprio un tipo di impianto estetico che è un impianto mai visto prima. E questa cosa qua per me è una caratteristica fondamentale, perché io sono contento se lo spettatore si sorprende, sono contento se lo spettatore si porta a casa il film. È un film che non finisce, no, quando dopo andiamo a mangiare la pizza con gli amici dopo il cinema, ma resta durante quella pizza, durante la notte, il giorno dopo e per un mese ancora. Ho fatto delle proiezioni screening un mese fa e le persone ne continuano a parlare. Sì, è come un buon vino, no? Deve crescere. Perché Remo? Perché il suo punto di vista? Secondo me era interessantissimo e curioso raccontare questa storia dal punto di vista di Remo, dello sconfitto, se vogliamo, di chi porta dentro il racconto, anche mitico, una visione contemporanea, una visione atea, se vogliamo, una visione, se vuoi, un po' più disillusa rispetto al rapporto col Dio. A un certo punto Remo in una scena durante l'incendio del villaggio dice al fratello «Siamo soli, non lo senti, non c'è niente intorno a noi, non c'è nessun suono, solo tu senti queste voci, non c'è niente intorno a noi. Siamo soli e queste persone temono chi ha il potere, temono la paura, temono qualche cosa che non è il Dio, è qualche cosa che il Dio fa finta di fare, ma poi in fondo è l'essere umano ad agire. L'altro fratello ha una visione completamente opposta e questo dualismo, che nel mito è presentissimo ed è molto interessante, secondo me crea quell'esplosione che appunto poi genererà la nascita di un ordine nuovo, che però, come vedi, il film è dal punto di vista di Remo, ma l'ordine finale lo costruisce Romolo, ma con qualcosa che il fratello gli ha lasciato, perché questa natura duplice deve poi fondamentalmente rifondersi in una e creare un nuovo ordine. Si dice che Roma nasce dalla fusione tra il bosco e la città, tra il bosco e l'individuo, cioè Roma è il boschivo che si fa urbano, che si fa urbe. Questo elemento qui, questa natura ferina e animalesca, ho cercato proprio di metterla in scena in modo tale che lo spettatore, anche inconsciamente, alla fine della proiezione, la possa sentire sulla pelle. E Remo è il portatore di questo sentimento ed è il mio, come dire, messaggero per raccontare il film.